Ciao a tutti e a tutte, sono Paola da Torino, sta per partire il Pride di Torino, tantissima la gente, siamo qua, ragazzi fate vedere il nostro striccione WISP per i diritti contro tutte le discriminazioni, subito dietro abbiamo la società Poma e Punta dello schermo medievale, davanti a noi abbiamo il mitico Toret Calcio che si sta preparando, eccoli qua i nostri calciatori bellissimi, Marco saluta a tutti, sei in diretta a WISP nazionale. Ok Patrizia, un saluto a tutta la WISP, grazie per la collaborazione con Ritorette, vi vogliamo un sacco bene, prossimo anno facciamo anche il campionato con voi, bacio a tutti. E a tutte, e qua abbiamo ancora il gatto nero che si sta preparando, ciao ragazzi la WISP nazionale, gatto nero, eccoli qua, tutti perfetti, bellissimi, mi raccomando è importante, dimmi. L'anno poi la femminile ha vinto anche l'eccellenza, quindi il gatto nero siamo felicissimi. La prima squadra femminile di volley ha vinto il campionato WISP. Grandi, grandi e grandissime, benissimo, rifacciamo, eccoli qua il presidente del Toret Calcio, il nostro bellissimo servizio civile, eccoli qua. Una grande festa si sta preparando, questa volta c'è bisogno veramente di tutti e di tutte, perché i diritti non devono essere un privilegio. Tantissime le persone, quest'anno qua al Torino Pride abbiamo anche il primo vedovo delle unioni civili, Gianni, che inizierà proprio oggi, qua, le riprese per il suo film, dove si racconterà la storia di Franco e Gianni, questa storia d'amore grandissima e che ha aperto il cuore a tutti noi. Faremo un lungo giro per tutta Torino, partenza adesso, previsto l'arrivo alle 19.30. Ore, 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 ecco, come vedete la festa impazza già prima ancora della partenza, abbiamo a Gedo, tutte le associazioni, GECO, ci siamo proprio tutti e tutte. Mi raccomando, una grande festa nella sicurezza, perché Torino ha messo in sicurezza tutte e tutti. Guardiamoci qua, iniziano i balli. Che faticaccia a passare in mezzo a tutti questi colori bellissimi. Ci siamo, ci siamo, la banda aprirà. Ci siamo, ciao ragazzi e ragazze, siamo in diretta, un bacio. Siamo, siamo bellissimi e bellissime tutti. Si parte! Buon Pride a tutti e a tutte. Ricordatevi, i diritti sono di tutti e di tutte, i diritti non sono dei privilegi. E ricordiamoci, porti aperti.